Sindaco, lo sappiamo, le risorse per i comuni sono sempre di meno, ciò nonostante il Comune di Lerici crede fortemente nella cultura e investe nella cultura. Diciamo che se l'attività di un'amministrazione comunale spesso si misura con la realizzazione di opere pubbliche, la spesa in cultura e la produzione di eventi per Lerici equivale alle opere pubbliche. Lerici senza cultura non esiste, c'è un corpo svuotato, pertanto è compito primario per l'amministrazione comunale Lericina di investire in eventi, sia che siano eventi per trascorrere una serata in divertimento, ma soprattutto eventi anche culturali dove diciamo quello che è l'animo di Lerici si esprime al massimo. Oggi la presentazione della nuova stagione del Teatro a Storia, quali sono gli appuntamenti principali? Sì, una stagione molto ricca che spazia dal teatro alla musica, al cinema e al documentario Denuncia che è la vera novità di quest'anno, quindi The Cove, La Baia dove muoiono i delfini, avremo il premio Oscar Ricciardo Berri, grazie a Giuliana Santoro che ci ha fatto da ponte per questo contatto. La prima sarà della prosa teatrale con Filippo Timi, un artista che ha 5 anni che cerchiamo di portare sul Teatro a Storia e che finalmente siamo riusciti a portare. Uno spezzino doc, Leonardo D'Angelo, ormai romano deduzione, che porterà la commedia Il Medico dei Pazzi. Suoni dal Golfo, immancabile, che quest'anno ha come valore aggiunto l'ex sovrintendente del Carlo Felice, il maestro Roy, che assume il ruolo di direttore generale di Suoni dal Golfo. Fuoriluogo, Fuoriluogo for Kids, quindi il teatro contemporaneo ai ragazzi e insomma siamo molto orgogliosi della nostra stagione. Ecco, in questa stagione non manca una parte musicale. Sì, sono molto felice che siamo riusciti a riproporre, quindi a portare avanti il progetto della stagione concertistica del Teatro a Storia. Cinque appuntamenti da gennaio a maggio, concerti con programmi molto vari. Chiuderemo con un omaggio a Beethoven nel 2020, il 250 enario, con un grandissimo pianista giapponese. Quindi un programma vario di caratura internazionale, che dà spazio anche ai giovani, alla musica contemporanea e anche a degli ensemble che normalmente non si trovano nelle stagioni concertistiche locali. Per cui aspettiamo numeroso il pubblico.